Per me è solo un'illusione arrivare alla pensione, se il contratto è un po' precario non mi baso sul salario, son che sempre a biesa mia, non c'è meritocrazia. Curriculum, ho da mandare dei curriculum, ho presentato dei curriculum, perché voglio fatica. Ah, buongiorno, allora siamo pronti per darvi il lavoro, voi siete pronti? Spero di sì, no, fermi, correte il rischio di lavorare, attenzione, a frapporto. Nome e cognome? Tindore. Nome e cognome? Rosario, ma non lo dimostro. Io mi chiamo Luigi Esposito, però per gli amici e per la sera mi chiamo Ciccino Wewe, veramente. Io sono Franklin, Franklin la tromba. La tromba? Sì. Perché? Perché praticamente io sono un uragano con le donne, sto nel deserto e sono la tromba nel deserto, sto a mare e sono la tromba marina, insomma io dovunque sto io. Tromba? Sì. Invece lei dottore, nome? Io veramente sono infermiere, ma lei mi dice che sono dottore perché sì in effetti lo sembro. Come si chiama? Io mi chiamo Agostino, ma per gli amici mi chiamano tutti quanti Ago. Gaetano, amore. Concetto a cozzolino per gli amici di Tina Cozzo. Beh, non siamo amici, quindi non ci interessa. Come si chiama? Icia. Come? Icia. Ha avuto già esperienze lavorative? Come? Che tipo di esperienze? No, niente, sono tante, taglio un ghiacane. Come? Taglio un ghiacane. Faccio il pacchettatore apposivo e poi la sera fuori al ristorante dove lavoro faccio tutta la postizia e il cantantoneo melodico dentro al ristorante. Ho fatto sempre il muratore, sono stato sempre a contatto con la cardarella, con la spatola, ho fatto tutti questi lavori. Baywatch. Baywatch? Sì. Ha fatto molte puntate? Pamela Anderson, non la conosce? Certo che la conosco. Sì, sono io, la controfigura. Può dire meglio le sue esperienze lavorative? Io? Sì. Eh, praticamente, non si è davanti. Fatto più di un lavoro? Sì, no, subito, sì, un sacco, c'era un sacco proprio. Io ho fatto infermiere, ogni tanto mi arrangiavo anche a fare il dottore, sapete, quando il primario non c'era, allora facevo tutte queste cose, ecco. Primo lavoro? E prima, no, 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 no. Ora che entriamo, noi non possiamo mangiare, non abbiamo famiglia, non possiamo mantenere famiglia, quindi sincronizziamo gli iPhone. Sì, cazzo, cazzo. E se ci prendono a lavorare, ho già preparato 1500 euro di fuochi qua fuori, così si parla a me in bordo. No, no, no. Lei ha detto prima che si diletta a cantare? Io sì, ho detto, la sera faccio molte postiglie, però io le canzoni me le scrivo io, modestamente. Eh, me la fa sentire una, me ne fa sentire una. Faccio sentire Magica Libreta e si fa così. Magica, magica, libertà, papà, a ieri si faccia papà, emo se la papà, magica, magica. Va bene, va bene, grazie, grazie, va bene così. No, 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 beh, sgiolata. Il che? Sgiolata. Lei ha automunito? auto munito si motore a trazione integrale 4x4 cioè me ne faccio quattro alla volta una smart una smart e lei c'entra nella smart a poco alla volta ma le auto munita si si col treno con l'aereo perché non lo so quello io veramente muovo soltanto con la bicicletta e anche con le ruotelle perché solo le tue ruote io non so portare auto munita nel senso ha modo di spostarsi per la città oppure tengo uno scarabbeo uno scarabbeo senza targa senza assicurazione e senza casco e quindi non ce l'ho come se non tenesse scusi ce l'ho mette solo la benzina solo la benzina e cammina a quattro con i tre bambini con i tre bambini e Gesù creatura anzi fu bimbo sterz il bimbo sterz si lei ha qualche titolo di studio si sono diplomato in sessologia applicata applicata si si persia dalla mattina alla sera io mi applico in questa missione a qualche titolo di studio si 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 c'è lo studio a via marina proprio qui vicino studio studio medico a studio medico titolo di studio si studio sport a tezza alimentare terza alimentare studiato nel campo alimentare è affermativa di tutti i giorni faccio il ragù a casa mia veramente c'è un altro lavoro perché mi sono scocciato di maneggiare tutti quegli spiccioli volevo veramente qualcosa di sano di intero ai fogli di carta diciamo da 5 euro in su cerca un posto fisso c'è una prestazione in verità un mensile ecco diciamo così non manco un settimanale qui per cercare un posto di lavoro si qualsiasi si non è che ha qualche preferenza per esempio piacerebbe fare no a me piace assai guarda dammi guardate ce 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 le trattacce che succe gustav', amico mio felice che cioè gesto la Jamie di commento da面 che stia andando forte 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 a questa era una canzone lo facciamo il curriculum che ad 나왔ium in senza lavoro nella speranza tratto lo so come si scrive un curriculum. Ma te l'avete tra bollette del telefono e luce. Ma io pure io non ce la faccio a fine mese, sono due anni che non lavoro, è colpa di questa crisi, è una crisi che è colpita, non ci sta fatica. Non riesco più a comprarmi niente, mi devi credere. Buongiorno, scusate, di chi è questa posh qua fuori? Mia, posh, ma bianca. No, veramente non c'è, è la tua, fai presto, vai. Gustavo amico mio. Ed è venuto anche lui a fare il colloquio di lavoro? No, 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 Gustavo no. Ah, è venuta da sola? Gustavo è stato da Brasile. Lo sa che cerchiamo degli scaldasedia per impiegati comunali. No, io sapevo che c'era lavoro e mi suonò a cincia qua. Lei sa di che cosa si tratta questo lavoro, il personale che stiamo cercando? No, no, io non so ancora. In effetti noi stiamo cercando dei scaldasedie umani al comune di Napoli. A volte gli impiegati si allontanano onde evitare che la sedia si raffredda. Scusate un attimo, lo scaldasedie? Sì, sì, sì. Scusate, ma è all'ospedale questo faccio? Eh, io anche quanto guardo le macchine, sono seduto sempre, quindi sono abituato proprio a stare assettato. Quindi abituato, pensa di saperlo fare questo lavoro? Certamente. Pensa di saper fare lo scaldasedie? Ma mi state proponendo di candidarmi? No, 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 no. Eh, chiede, queste non le do perdono le lezioni, quando le danno le sedie? No, no, quelle sono le poltrone, ma quelle non le molla nessuno. Noi stiamo cercando di scaldasedie. Scaldasedie? Scaldasedie? No, 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 piuttosto io posso fare lo scaldasonno. Sonno? Sì, sì, perché io mi infilo in ogni letto e riscaldo tutte le donne. Ho capito, quindi pensa di essere portato per questo lavoro. Sì, sì, anzi, sai come mi chiamano nel gergo a me? Come la chiamano? Hello Kitty, perché sono il pupazzetto che praticamente ogni donna si mette accanto. Ho capito. Di fatti ci sono molte impiegate, sicuramente, sai, nel comune oltre impiegati ci sono molte impiegate. E loro non dormono con me, saranno sempre sveghe. Ho capito. Lei già fa questo? Io già faccio questo. Già, lei scalda le sedie all'ospedale? Io questo faccio, io scaldo sedie, scaldo bottrone, scaldo barelle, io scalfo anche il caffè ogni tanto. E emana calore? Dipende, da quale prospettiva. Sì, sì, sono caloroso, proprio il carattere, sono aperto. Ho un tipo freddo? No, no, no. Non è freddo lei. Non sono freddo di chiamato. Mai non ce la vedo a stocchia però. Scaldasedie. Scaldasedie, perché sa, a volte l'impiegato si allontana, la sedia si raffredda e questo non va bene. Ma scaldasedie, io non so, che vuol dire scaldasedie? Risposta a imparare questo lavoro? Io vorrei tanto la pace nel mondo. Lei sa stare seduto a una sedia? Certo. Mi faccia vedere, a cavalli la gamba, mi faccia vedere. Sta benissimo, sta benissimo. Quindi lei pensa di saper fare questo lavoro? Certo, io lo posso fare questo lavoro, sì. Ed è disposto a lasciare il suo vecchio lavoro di muratore? Eh sì, ma quando mi dà? Di questo ne parliamo dopo. Sai emanare calore per riscaldare la sedia? Per riscaldare la sedia? Non le sfego, non le sfelo quello che è il trucchetto, ma... Ha un suo metodo per riscaldare la sedia? Un metodo molto segreto, aria e giante. Non si può dire. Meglio di no. Se lei mi sta vicino, quanto sono costituto, più che altro lo sente? Ho capito, ho capito, ho capito. Mi dica, è disposto a frequentare un corso di formazione che dura circa 24 mesi per imparare a fare lo scaldasedia? Io sono sempre pronto ad imparare nuove esperienze, quindi è normale che sì, mi fa piacere. Napoli notte, il cornetto, il nirvenne, il sigaretto, Napoli perché voi sei nuttato, l'indacchisto, il gambusant. È disposto, Franklin, lei a frequentare un corso di formazione professionale gratuito che dura 24 mesi? 24 mesi nel letto per scaldare? No, 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 seduto a una sedia. No, seduto a una sedia, vabbè, no, seduto alla sedia no. No, non le interessa? No, no, troppo scomodo. Le interessa frequentare questo corso di formazione a titolo gratuito? A titolo gratuito, sì, va bene. Per 24 mesi non percepisce nulla, però. Ah, no, no, devo fare lo scaldasedia? Sì. Eh no, è meglio che faccia scaldare la cartarella, è meglio. Cioè, è una sedia per me, è quasi piccola. Ci sono anche delle poltrone, gliel'ho detto, il dirigente occupa la poltrona, per esempio. Io faccio la dirigessa. Però io volevo farvi una prosta a voi. Se voi state cercando scaldasedia, al limite facite una cosa, portate un sese a casa mia e vi scalfate una o una. Eh no, se no, perché non c'è niente. Non ho capito se è disposta o non è disposta. Cioè, vorrei, ma c'è, ma non c'è niente. Quindi sì. Non c'è niente. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Abbiamo trovato il progettista proalimentare per la ricostruzione alimentare del terzo mondo. Abbiamo risolto il problema della fame del mondo. Abbiamo risolto il problema della fame del mondo. Questa è una persona preparatissima. Nutrizionista, dietologo. Dietologo, conoscenza anche alimentare. È una persona squisita. È squisita. È squisita, è una persona squisita. Lo dovremmo assumere subito, però. Napoletano, napoletano. Che bello. Assumiamo subito domani mattina, mi raccomando. Cavaliere a telefono. Ah, il cavaliere. Cavaliere, buongiorno a lei. Sì, una splendida giornata. È andata a cavallo stamattina? Ah no, vabbè, ma insomma, sia tranquillo. Ci andrà sicuramente. Sì, stiamo trovando la persona. Anzi, le devo dire proprio la verità. L'abbiamo trovata. Sì, 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 sì. È veramente una persona in gamba con tanto di laurea, specializzazione, master, dottorati, grande esperienza. Abbiamo risolto con questa persona il problema della fame del mondo, con questo progetto di nutrizione. Sì, 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 sì. È sua cugina. Sì, sì. Infatti, le stavo dicendo che è sua cugina. Domani mattina? Domani mattina, sì. Guardi. Ma sì, possiamo fare così? Io mi mantengo leggero, la sera specialmente. Pesce, non posso mangiare carne la sera. Carni bianche, carne bianche, pesce, sì, sì. Cosa leggera. Sì, 12 persone. Ho pochi, 24. Va bene, la ringrazio. Allora, domani mattina mi raccomando, sua cugina venga qui e faremo una bella colazione insieme, rimanendo nel tema. Grazie. Arrivederla, cavaliere. Arrivederla. Eh, dottore, allora questo lo assumiamo. Ti faccia mangiare qualche cosa di buono, poi ne manghiamo. Dottore, ma così affamiamo l'Africa. Eh, noi affameremo pure l'Africa, però che devo dire la verità, io la mangio ogni sera a Bersaliera, insieme agli amici miei. E che ce ne importa. Curriculum, ho da mandare del Curriculum, ho presentato del Curriculum, perché voglio affaticare. Io non sono un bamboccione, chiedo solo un'occasione, vorrei tanto lavorare, se poi io non lo so fare, mi potete licenziare Curriculum, ho da mandare del Curriculum, ho presentato del Curriculum, perché voglio affaticare. Le faremo sapere!